Steph? Sì, Fede? Ma lo stai facendo? Dobbiamo registrare il secondo video! Fede, abbiamo appena finito di registrare il primo, scusami! Sì, ma tu non mi hai fatto fare il giro nel trenino, quindi ti faccio registrare subito il secondo per farmelo fare! Fede, no, no, no! Sì, sì! I consolini devono aspettare a effetti anche tu! Molla il telefono e registriamo! Mi sembra eco che aspetti stato... No, no, no! Io non aspetto, Fede e Niki non aspetta mai, quindi molla il telefono e mettiti a registrare! Va bene! E ragazzi, come va? Io sono Fede e Niki! E io sono Stef e che si chiama HelloNegbor! E registriamo subito anche il secondo episodio perché ormai sono troppo, troppo, troppo curiosa e voglio sapere cosa succede se andiamo sul trenino! Sei proprio una ragazza adulta, te! Allora, allora, anche i consolini mi danno ragione, quindi io non lo sto facendo per me, lo faccio per i consolini perché anche se non è ancora uscito il primo episodio, Io in cuor mio so che anche loro vogliono sapere cosa succede se andiamo! Sì, ma a loro li stai facendo aspettare un giorno, tu stai aspettando cinque minuti, quindi non ti mettere insieme a loro! Ti stai facendo solo i tuoi interessi! Allora, i consolini sono sempre equalizzati con me e non con te, quindi stai zitto e muoviti a registrare! Vero, consolini? Vero che tanto siete sempre da mia parte! Cosa mi tocca sopportare nella vita! Team Fereniti per sempre! For life! Smettila! Ok! Allora, allora, allora! Allora, allora! Il primo episodio è andato tanto bene, abbiamo scoperto un sacco di cose, abbiamo trovato la calamitina, all'ombrellino, abbiamo trovato un sacco di stanze interessanti, un sacco di vie da esplorare, quindi è andato davvero tanto bene, questo episodio secondo me andrà molto peggio! Allora, prima cosa! Ho una teoria, questa scala è quella da dove sono cascato! Sì, 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 certo che lo è! Quindi, se noi scendiamo dalla scala, magari c'è un modo di aprire una porta tipo qua, e quindi entri nella casa e subito prendi la scala, sarebbe utile! Hai controllato nel cofano se c'è qualcosa nel cofano dell'auto, perché non l'abbiamo guardata? In effetti no, aspetta! Opla, opla! Leva tipo questa scatolone! Via! Una mela! E meno male che te lo dice Fereniki, cavolo! Una chiave rossa! Perché abbiamo tutte chiavi colorate qua? Nelle sopra sono belline, guarda che belline! Sì, e probabilmente il lucchetto sarà dello stesso colore, mi viene da supporre questo, così capiamo quale chiave... Tu lascialo perdi, io faccio finta che non esista! Vedi che avevo ragione! Scala, scala, scala! Avevo ragione! Allora, non provo a salire di sopra perché continuo a dire che è bloccato, però ti do l'ultima conferma, guarda, vedi? Sì, sì! Quindi noi dobbiamo andare di qua e siamo già di sopra di nuovo! Ciù, ciù! Trenino! Eccolo, 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 eccolo! Si può prendere? Come ci salgo, secondo te? Vai! Ah, grazie! Steph! Steph! Scusa, Pere! Perché faccio i video con te? Ma tutto, Pere! Una cosa ti avevo chiesto, una! Era stretto! Io ti sto chiedendo una! Neanche a dire provami tutte queste cose stranissime! Una, te ne ho chiesto, di entrare su un treno di cui oltretutto si aprono le porte da solo! Cioè, non è che ci voleva! Capito? Non è che dovevi andare lì a piede di porco e scardinarlo! Cioè, no! Ti hai visto? Ho visto! Prendimi i sasci denti! Guarda! Vedi gli scatoloni? È un muro finto di scatoloni, Pere! E qua perché c'è una leva? Premi tutto! Non funziona, non posso! Non si può premere! Vabbè, godiamoci il viaggetto in trenino! Ciu ciu! Cia 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 ciu ciu! Cia 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 ciu ciu! Questa è la parte più bella dell'Alfa! Poter prendere il treno è la parte più bella dell'Alfa! Io lo dico! Guarda che bella è la! Adesso rimaniamo due ore e mezzo qua! Due ore e mezzo qua! Allora, lì quella è la porta che avevo aperto! Ok, non vedo altro di utile! No, no, infatti! Qua non posso fare per ora nulla ma secondo me c'è qualcosa che si può fare! Restiamo qua di nuovo e secondo me appena arriviamo a una fermata si riferma! Fere! Fere, come faccio adesso? Devi lanciare al volo! Porca miseria! Ok, sono tornato qua! Sul tetto c'erano cose strane! Allora, secondo me si potrebbe sfruttare nel modo giusto! A questo punto, a questo punto! Cosa vuoi esplorare? Io vorrei andare a vedere quella pila di scatole che ho visto! Ok, ok, ci sto! Secondo me se il trenino ci investe ci ammazza! Dici? Ah va bene, infatti sì, se ti arriva un treno in faccia! Aspetto che passi e corro! Ok, ok! Allora, vai trenino! Ok! Ah, non si ferma più! Porca miseria! Non è che la leva ha fatto sì che non si fermasse più? Eh, può essere! Si è azionato anche se non lo so! Può essere, può essere, può essere! Allora, qua era dove ho visto... Sì, vedi? Vedi, Fede? Eh, ma come ci puoi arrivare? Facendo ta e ta! E ho ragione però che c'è comunque! Eh, l'ho capito, ma non so cosa sia! Cioè, non so come ci... Un super salto? Ui! No, però magari mettendo una scatola qua posso fare un super salto! Treno? Vabbè! Treno? Vado! Vabbè! Allora, provo? Sì, ormai sì, proviamo! Anche questo bottone è un po' particolare! No, no, è solo un bottone! Dai, lascialo stare, dai! Ammettilo che ti sei spaventata quando sei mostrata! Sì, ho detto che si inizia a camminare da sola e mi viene un infarto, guarda! Allora! Che non si sa mai! Dopo i manichini, guarda! Ta! Ok! Ta! Ce la faccio! Vai, ce la fai! Ce la faccio! Ce la faccio! Massima rincorsa! Ui! Ce l'hai fatta! Dai, dai, dai! Si può! Allora mi prendo anche il treno! Sì, va bene! L'ombrello! L'ombrello che non voglio lasciare qua che secondo me prima o poi sarà utile davvero per planare! Io te l'ho detto che serve davvero per planare in quel balconcino che abbiamo visto nello scorso episodio! Ok, adesso calmo! Salta! Salta! Ce l'abbiamo fatta! Aspetta, binoccoli, sveglia e padella! Questo è un indizio per... Guarda in alto! C'è qualcosa in alto! No! No, no, c'è strana! Ok! Porta che sia... Oh mamma mia! Scusa! Redammi la mia calamita! Ci ha preso le chiavi! Allora... Ci ha preso le chiavi! Che è sta cosa? E c'è un'altra chiave di un altro colore! Allora, questa cosa va bloccata, io te lo dico! Non è... Certo! So solo che ci ha rubato la nostra amata calamita! Anche le chiavi? E anche le chiavi! Eh, te l'ho detto! Anche le chiavi ci ha rubato! Ma porca miseria! Ci hanno rubato tutte le chiavi! Io sinceramente le lascio lì! Perché tanto per ora neanche abbiamo visto dove ci servono! Ok! Quindi ce ne freghiamo un po'! Continuiamo, continuiamo! E cerchiamo di capire come si spegnerà quella specie di cosa! Nel mentre, io ti dico che secondo me è ora di provare ad andare in qualche zona saltando! Però bisogna scegliere attentamente dove saltare! Certo, certo! Perché da qui è pieno di stanze che non abbiamo visto! Tipo... No, ovvio, 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 ovvio! Quel balconcino lì, ad esempio, l'abbiamo mai fatto? Non lo so! E ho anche paura sempre di essere investito! Quindi mi viene un po' da muovermi! Non mi viene da restare troppo... A stare... Uuuuh! Eccolo qua, infatti! Allora, ripartiamo subito, dato che è ripartito anche lui! Occhi aperti e dimmi se vedi qualcosa di... Ah, aspetta però! Teoricamente... Sì! È qua, lui non passa! Quindi... No! Corri! Corri! No, non ti buttare! Ok! Dove siamo finiti? Ti ricordi? Oh mio Dio! Sì, mi ricordo! Nella Alfa che qua dovevi fare con gli scattoloni che ero impazzito? L'ho visto dall'alto e mi ci sono buttato! È stato il momento di pazziato a peggiore nella nostra live! Ero anche in procinto di essere investito, quindi ne ho approfittato per andare in un posto utile! Allora, guarda qua! Stacca tutto, perché secondo me è questa la... Ma vedi che... Distruggi la... Collega l'elettricità di qualcosa? Mmh! Mmh! Allora, ci serve qualcosa perché non credo che noi possiamo toccarlo con le mani, dato che c'è la corrente! Però... Vedi che... Ok? Vai, prendi, prendi il piede... È un piede di porco, una forchetta! Sì, però... È un piede di porco! Credo che sia bollente! Aio! Ti ha bruciato? Sì, guarda! Non posso tenerle in mano, vedi? Ai! Porca miseria! Cosa dobbiamo fare allora? Soffiaci! Così! Soffiaci! L'ho messo a posto! Allora, lascialo lì, magari si sfredda! Boh, va bene! Secondo me dobbiamo fare qualcosa, però... Altri manichini! Fatemi un attimino esplorare questa... Oh, che cos'è tutto questo? Un ascensore! Una televisione! Manichini! Leva! Torcia che ci prendiamo! Ah! Da quella finestra ne avevamo tirato la torcia! Per spaccare il vetro ed entrare! Ah, ok! Sì! Sì, quindi è la nostra torcia! Qua ci siamo mai stati? Wop! È salito senza di noi! Sì! È salito! È salito senza di noi! Però, allora, un'idea! Ehm... Ta! 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 Noi stiamo sopra la scatola, che la scatola viene portata e quindi porta anche a noi, no? Non lo so! Prova, sì! Però ci sta a fare un'altra tentativa! Wop! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Steffi, il numero uno! Però è chiusa la porta! Ma la porta è chiusa! Porca miseria! Pensavo! Guarda che tattica! Ok! Poria di buttarlo così... E dove te lo vuoi portare, scusami? Lo butto lì sotto e ce lo portiamo lì sotto! Ok, vai! No? Perché non ho altre idee! Ora dobbiamo farci! Aia! Aia! Però sta funzionando! Aia! Quasi! Nella sua ridicolaggine questa idea sta funzionando! Aia! Spera, ufficialmente non si spegne! Siamo rimasti qua cinque minuti a fissarlo! Giusto per togliermi lo sfizio, ma è ancora così! Io però sono fiduciosa, quindi ricordati di dove l'hai lasciato! Va bene, va bene! Perché secondo me prima o poi si spegne! Ok, ok! Beh, non può essere una coincidenza! Allora, si potrebbe... Ah no, dicevo scendere di qui, ma in realtà questa era chiusa, non mi ricordavo! Quindi a questo punto aspettiamo che passi il treno e andiamo a lanciarci nuovamente da qualche parte! Ok, ok, ok! Quindi ho ombrello in mano e vediamo un po'... Lì ci siamo già stati, questi balconi mi sembrano pressoché inutili! A me ispira questo tubo, Fere! Ho visto questo! Quale? Occhio al treno dietro! Ah no, ok! Ho visto l'ombra, mamma mia! Ho visto un russo fare una cosa assurda con questo tubo! Cosa? Praticamente salta sul tubo, poi lo scala un po', poi si lancia! No, è impossibile! Eh, io voglio provare a fare il russo, Fere! I russi lo sai che sono i maghi del parkour, cioè non li puoi eguagliare, io te lo dico! Cioè guardati i video dei russi reali che fanno parkour, è impossibile! È proprio impossibile! Soltare così! Ok! Ok! E questo purtroppo era il salto facile! Da qui noi dovremmo saltare su questa cosa di legno fine fine avantiare! No, è impossibile! E poi su quella stanza! No, no, non si può fare! Te lo dico, non si può fare! Fere, l'ho visto fare! Il russo ha sbagliato e non è così! Fere, l'ho visto! No, no, ma se sta lì sul tetto? Qua? No, sul tetto tetto! Ah, boh! Boh, vabbè! No, non si può fare, te lo dico! No, 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 non lo puoi fare! Vado? E ormai! Steffi è diventato un russo! Al primo colpo! Al primo colpo! Adesso vedi di non cadere e raggiungere quell'accidenti di container! Allora, passiamo attraverso questa verde! No! E allora come dovrei farlo un salto? Questo non l'ho visto dal russo! No, dai! Aspetta, aspetta, aspetta che lo sfruttiamo! Aspetta che lo sfruttiamo! Ok, ok, ok! Ok, almeno non siamo morti! Esatto! Allora, a questo punto vediamo un pochettino se riusciamo... Porca miseria! Ok! Plana! Mary Poppins! Eh, no! Plana, plana, plana! Una volta andata! Ok! Accidenti! Accidenti! Ma sei sicuro che si possa salire in quel container? L'ho visto! Fere! Guarda! Possiamo finalmente usare! Avevo ragione che allora si raffreddava! Ci mette una vita però! E vabbè, otto giorni! Non so a che serve, ma io ero tornato qua perché mi ero accorto di questa! Ah, ecco dove era la chiave gialla! Avevo ragione che non avevamo trattata! Sì, però non ho spazi e binocoli, mi spiace, non ci servite più! Allora, facciamo così! Dov'era? Non lo ricordo più, però direi che proviamo ad aprire la porta gialla! Ok, ma ti devi ricordare dov'è però! Eh, lo so, però proviamo ad aprire quella che magari troviamo una soluzione! Mi sono ricordato, mi sono ricordato! Qua, questa! Eh, per poi recuperare le altre, capito? Sì! Perché al momento sono incastrate nelle calamite! Cioè, abbiamo fatto il giro! Davvero? Abbiamo fatto il giro! Scusate, ma dovevo farlo! Era più forte di me! Era l'ultimo! Ho detto, dai, ci sblocchiamo la porta figa, magari ci aiuta per... Il sombrello è un po' più bellino del mio! Non mi piaceva più quella qua! Ah no, sinceramente è diventato uguale! Ce l'ha cambiato... Ah no, ok, no! Dai, usiamo quello qua! No, è una bellina, ormai ci sono affezionata! Abbiamo planato tantissimo con il nostro ombrello! Ti viene in mente qualcosa per cui ci sarebbe servito un piede di porco? Ah certo, per la porta del vicino! Però a noi manca la tessera! Eh sì! Ok, quindi bisogna trovare la tessera e possiamo aprire la porta finale! Allora, io direi che abbiamo due soluzioni in questo momento! Ok! O proviamo a rientrare in quella stanza container strana fluttuando e quindi proviamo a ridiventare un russo parkurizzandoci tutto! Ok! Oppure stiamo sempre nei tetti e cerchiamo di capire se c'è qualche zona che ancora non abbiamo visto planando! Allora, stavo continuando a provare festive il russo, ho fallito miseramente, sono arrivato in una scala stranissima che mi ha portato in questa stanza! Allora, non fare domande perché non so perché ci stanno sparando delle mele, ma lo stanno facendo! Buttalo giù! Manca miseria, vuoi giocare a chi tira più cose, eh? Vediamo chi vince! Ci fanno male, vero le mele? Non ho idea, non ho idea, non voglio scoprirlo, se devo essere sincera, perché non saprei neanche come tornare qui, quindi sai, è buona la prima! Ma dai! Allora, ritiragli una mela, fai come sta facendo lui! Tu prendi una mela e gliela ritiri! No! Questa è perché mi dai le le terribili! Allora, usa la scatola per proteggerti, mi sembra una buona idea, buttalo giù! Sì, però vorrei raccogliere il mio piede di porco! No, però aspetta, passa avanti! Ok, ce l'ho! Allora, 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 sembra una specie di roba dove devi riuscire a passare nelle varie zone, giusto? Non so come abbiamo superato la prima, ma vabbè! Non ho idea, sembra un bug! 3, 2, 1, stefino russo! Bravi, bravissimi! Ok, che non c'è niente! Allora, qui dietro non c'è nulla! Dentro i cassetti, però? Allora, nulla, nulla, nulla! Ok, questo cararmatino... Questo ce lo sbobbiamo, è troppo bellino! È troppo bellino, però non posso prenderlo, peccato! E queste le posso spegnere? Eh, c'è un bottone! Fucile! Oh! Steph, prendi il fucile! Oh, yes! Prova adesso a premere il bottone col fucile! Ok! Ok! Ok, dell'altra neanche! Però a questo punto voglio andare lì a vedere qua! Cioè, dopo che ci danno il fucile così inaspettato... Aia! Ai 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 ai! Ok! Ok! Secondo me questo è semplicemente un altro modo per arrivare, vedi? Ok, sì, 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 sì! Ok, quindi abbiamo fatto tutto! Ci siamo, in poche parole, finalmente beccati il fucile! Buona sapersi! Questo cappellino non possiamo prenderlo! Vero che anche a me è un curiosito tantissimo! Oh, mamma mia! Sono occhi! Ma che cavolo è? Ce ne andiamo e facciamo finta di non averlo mai visto! Sì, anche perché le mele mi stanno flippando malissimo! Comunque le mele non ti uccidono, ma ti sbalzano tutto il tempo! Vediamo! Io? Che è sta cosa? Allora, siamo sotto le... Ok? Hai capito? Sì! E qui davanti, secondo te, non è che una porta segreta? Siamo sotto le texture di gioco! No, non dovremmo essere qui! Andiamo via e facciamo finta di non aver... Consorini non avete visto nulla! Ok? Nessuno ha visto niente! Vabbè, ma... Cioè, non sembra un bug! Fin qua! Poi qui per forza, ok? Però lì non sembra un bug! Cioè... Non sembra un bug! No! Io volevo soltanto finire il gioco! Non abbiamo... Non abbiamo buggato il gioco! E questi chi li ha messi? Dai, abbiamo buggato tutto! No, no, rispondimi! Cominciamo da qui! Aspetta! Aspetta! Dobbiamo giocare con i cubetti! No! Cioè, abbiamo... Siamo in un posto dove non dovremmo essere! Secondo me non è contemplata questa cosa, te lo dico, eh! Ci fermiamo così per questo video! Anche se non volevamo fermarci, ci attacca fermarci! Allora, prossimo episodio! Che non registriamo subito dopo questo! Esatto! Abbiamo bisogno di capire come spegnere quel dannato magnete! Recuperarci tutte le chiavi! Aprire tutte le varie porte! E a quel punto trovare la tesserina! Perché abbiamo il piede di porco! In realtà non lo avremo più, ma rifaremo tutto tra un episodio e l'altro! Quindi abbiamo il piede di porco! Apriamo la porta! A quel punto tesserina! E teoricamente il gioco è finito! Teoricamente! Si spera! Non sappiamo se ci sarà ancora molto da fare! Ormai non canto vittoria con questo gioco! No, certo! Non canto mai vittoria! E poi voglio cercare di andare nella stanza a contenerci! Proviamo! Esatto! Continuiamo a provarci, provarci, provarci! Fin quando non ci riusciamo! Cercherò altri video dei russi! Inizierò a fare le cose dei russi! Da cui prendere ispirazione e forza per il parkour! Preparatevi e niente, direi che ci possiamo fermare così! Sondaggino, commenti, like su tutto quello che può aiutare il video e essere supportato! E ci fermiamo così! Bene, se ci riesce così, lasciatemi un like! E' stata la prima volta che ho detto il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi altri video! Ciao, e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!